Numeri, dati, cifre. Ogni report che si rispetti di solito comincia da qui, ma nell'anno in cui tutto è cambiato deve per forza cambiare anche il modo di analizzare gli eventi. Ed è per questo che il comune di Fano ha voluto per un attimo voltarsi indietro e concedere un ultimo sguardo alle recenti festività natalizie. Ma senza pensare ai numeri, ai dati, alle cifre. Lo ha fatto attraverso un video speciale capace di fotografare tutto il carico emotivo del momento e di esprimere una certa voglia di speranza verso quello che verrà. Un video finale diverso dal solito quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo voluto costruire una sorta di mini documento, non mini perché rappresenta tante realtà, tante cose, tante situazioni, tanti eventi che si sono costruiti in città durante questo periodo natalizio. Ma non solo, perché questo è un documento che vuole restare nel tempo, un documento che vuole rappresentare il momento difficile di questa città ma che si rispecchia in una realtà che poi è globale. Quindi abbiamo costruito questo video facendo vedere una parte della nostra città, gli eventi che sono stati costruiti e prodotti durante questo periodo natalizio e quindi in un momento, in un video emozionale, che desse un'emozione che portasse anche un messaggio. Quello di essere insieme, di progettare, di andare avanti, di essere forti, di essere una comunità. La città di Fano è una città che nei momenti di difficoltà ha veramente un carattere particolare, cerca di emergere sempre con sinergia. Lo ha fatto veramente in questo periodo. Il Natale che ha voluto così con le sue luci lanciare questo messaggio di speranza è stato soprattutto un momento dove tutti si sono uniti e hanno voluto guardare la speranza nel futuro e quindi associazioni culturali, associazioni dello spettacolo, attività economiche, quindi veramente un'unione proattiva nei confronti del momento. Il passato è passato però, per questo il Comune di Fano guarda già avanti e lancia due nuove iniziative, tra cui un vero e proprio contest multimediale attraverso Facebook e Instagram. Da lunedì 1 febbraio a domenica 4 aprile sarà infatti possibile pubblicare foto e video di tipicità fanesi non più lunghi di 59 secondi, accompagnato dagli hashtag Racconta Fano e Visit Fano. Saranno il numero di like, commenti, condivisioni e tag a decretare i 15 vincitori. Uno è un progetto digitale, si chiamerà Racconta Fano, quindi la possibilità per tutte le persone che lo vorranno di inserire nelle foto dei social, foto con prodotti tipici locali, con prodotti enogastronomici, foto con le attività economiche. Insomma vogliamo dare quella sensazione, quella necessità di comprare fanesi ancora in questi mesi e di dare una mano alle nostre attività economiche. Inoltre riallestiremo la città, lo faremo dal 10 febbraio fino a Pasqua con alcune zone della città creando una sorta di cielo stellato, quindi crediamo che questo più la filodiffusione che sarà attiva fino a febbraio ci daranno almeno quella sensazione di voler credere nel futuro. Ovviamente come amministrazione non ci fermeremo qui, stiamo facendo comunque, continuando a fare anche con il tavolo economico una serie di incontri per capire come fisicamente aiutare le attività economiche in questo periodo. però crediamo che anche un messaggio di questo tipo in questo momento sia veramente importante per non demoralizzarci e comunque lavorare insieme, aiutare le persone più deboli, cercare di sostenerci con una grande sinergia insieme per il futuro.